Ho provato la demo di Stellar Blade. Incuriosito dalla mole di critiche e di rimproveri da parte della community, ho deciso di provare il titolo per vedere se fa quello che deve fare, ovvero divertire il giocatore pad alla mano. La prima cosa che notiamo a schermo è la possibilità di poter giocare il titolo interamente in italiano, e questa cosa ci piace. E secondariamente abbiamo la possibilità di addentrarci nel gioco scegliendo tra le due modalità principali. La modalità storia, che renderà il gioco più scorrevole con combattimenti meno impegnativi, e la modalità normale, che rappresenta il modo di giocare nella sua forma completa. Inoltre sarà possibile modificare alcune impostazioni generali ed altre più specifiche. Una volta fatte le dovute modifiche, siamo pronti per cominciare. Dopo la prima sequenza introduttiva, ci ritroveremo su una spiaggia, dove sarà possibile effettuare un primo tutorial. Per provare le abilità iniziali e prendere confidenza con i comandi, potendo infine mettere in pratica tutto ciò che ci è stato insegnato. Finito questo primo tutorial, inizieremo la vera e propria demo, con una sezione di mappa dove si potrà esplorare e prendere familiarità con le meccaniche aggiuntive di gioco. Si scopriranno i primi accampamenti, i primi distributori e ci si potrà riposare, ricaricare le cure e far respawnare alcuni nemici. Perché sì, stiamo parlando più di un Souls che di un hack and slash. Molti probabilmente resteranno delusi da questa notizia, ma fondamentalmente parlando, la tipologia di gioco pad alla mano sembra piuttosto chiara. In un qualche modo è anche possibile spammare combinazioni di attacchi leggeri e pesanti, ma bisogna fare attenzione, perché gli avversari delle volte non saranno sbilanciabili ed effettueranno attacchi che dovranno essere gestiti diversamente. Proprio come un Souls. Apro una piccola parentesi sugli accampamenti, che si dividono in quelli più semplici, dove ci si potrà riposare e rifornire dei vari distributori, e quelli più complessi, dove al suo interno si potrà migliorare il nucleo dell'arma ed incrementare la quantità e l'efficacia delle cure. Lo skill tree, invece, è rappresentato da uno stile classico, con abilità acquistabili nel tempo e migliorabili tramite skill points. Anche qui viene sfruttata la meccanica di parata perfetta e schivata perfetta. La parata ho notato essere molto precisa, forse agli stessi livelli di Lies of P, solo che qui, a differenza del gioco di Pinocchio, gli avversari hanno movenze ed attacchi precisi, anche se ripetuti ciclicamente. La schivata ricorda, invece, molto Nier Automata, dove effettuare una schivata perfetta permetterà al giocatore di rallentare lievemente il tempo e potersi coordinare per l'attacco successivo. Altra abilità con cui bisognerà prendere familiarità è il flash, idea sicuramente ripresa da Sekiro, come counter per gli affondi, se avete presente, dato che potrà essere utilizzato solo quando il bagliore della spada diventerà blu con attacchi mortali dei vostri avversari, permettendoci di aggirare il nostro avversario ed ottenere un vantaggio strategico non indifferente. Questa è, probabilmente, una delle meccaniche che non mi ha convinto pienamente, in quanto la reattività dei comandi sempre tenere in conto il fattore movimento, ovvero l'impossibilità di potersi muovere liberamente se si vuole scattare in avanti, impedendo al giocatore così di essere dinamico e movimentato, come mostrato invece nei diversi trailer. Tutto ciò che ci permette di familiarizzare con l'ambiente, devo dire, mi ha piacevolmente sorpreso, con scansione in tempo diretto della mappa che mi ha riportato in mente un po' Death Stranding e le musiche di sottofondo durante l'esplorazione che riportano alla mente anch'esse in era automata. Diciamo che Stellar Blade rappresenta una sorta di commistione di molti titoli che hanno sicuramente impattato in modo positivo l'esperienza complessiva. Ciò che un po' mi preoccupa sembra la narrativa, già vista e rivista, con ambientazione post-apocalittica ed esseri umani che devono lottare per riottenere il dominio sulla Terra. Dal punto di vista grafico abbiamo come sempre le modalità performance, bilanciata e risoluzione, che ci consentiranno di vivere il titolo a pieno delle sue potenzialità. Anche se ad essere sincero, credo che un titolo simile debba necessariamente essere giocato a 60 fps fissi, in modo tale da sfruttare i vari frame di parata e di invulnerabilità tramite schivata perfetta. La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto in questa demo è sicuramente la modalità boss, ottenibile dopo aver completato la demo. Si avrà quindi la possibilità di poter affrontare un boss specifico, testando e variando combinazioni di build in vista di quello che sarà il titolo completo. Tutto sommato, devo dire che l'esperienza risulta abbastanza gradevole, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista pad alla mano. Qualche sporcatura che ovviamente caratterizza il titolo e che spero possano compensare con una buona narrativa, che al momento sembra essere forse il punto più debole di tutta l'opera. Non tanto perché scarna di dettagli, ma perché è sempre già qualcosa di trito e ritrito. Sicuramente non sarà uno dei miei acquisti in questo 2024, se ne parlerà probabilmente quando e se verrà inserito anch'esso nel PlayStation Plus. Se dovessi esprimere in termini di voti, il mio probabilmente sarebbe un 7, per quello che sono riuscito a vedere ovviamente. Con una buona narrativa, non nego che un mezzo punto in più potrei sicuramente aggiungerlo. Il gioco, vi ricordo, sarà disponibile a partire dal 26 aprile del 2024, ma già da ieri è disponibile la demo per tutti. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto e vi ricordo anche di seguirmi sul canale Twitch, dove discutiamo, proviamo e giochiamo insieme vari titoli cercando di valutarli e farci qualche risata in compagnia. Non mi resta a questo punto che salutarvi e sperare di beccarvi con un prossimo appuntamento. Bye bye! Ciao!